Per il giorno di oggi appunto il tram può essere visto a Piazzale Roma fino alle 16.30 e io distribuisco i volantini. Guardi, il tram è lì. Però non cammina? E cammino io. La carrozza immobile in mezzo ai cantieri, agghindata da un meraviglioso fiocco dorato. È un bel regalo di Natale. Speriamo. Natale dell'anno prossimo però. Sì, speriamo dai. Il tram è arrivato a Venezia, le scritte in sovrimpressione augurano un buon viaggio. Stupendo, benissimo, era ora. Meraviglioso in che senso, scusi. Ma per ora è possibile solo viaggiare con la fantasia, visto che per poter davvero arrivare in laguna col tram occorreranno circa altri 12 mesi, sempre se si crede alle assicurazioni di chi amministra. Ottimisti, ma stare attenti, tenere sotto controllo la situazione, sempre, sempre allerta. Nel frattempo il tram infiocchettato è diventato una nuova attrazione turistica, perché chi arriva dalla parte opposta del pianeta ama sentire aria di casa. We come from Melbourne, in Australia, we have lots of tram, so it's very good to see some here. Chi è arrivato da lì di meno esotici commenta invece con sarcasmo. Noi abbiamo chiesto se ci portasse a Mugliano, invece no, non arriva fino a Mugliano, abbiamo chiesto troppo. Più felice chi ha meno pretese. Quando si arriva a Venezia, moltissimo, andiamo via all'Igria. Speriamo. Speriamo.